Seconda stella a destra, questo è il cammino E poi dritto fino al mattino Poi la strada la trovi da te Porta all'isola Per continuare a vedere questo video e molti altri visita thevoiceofitaly.rai.it Prima di andare via, clicca qui e iscriviti al canale ufficiale di The Voice of Italy Grazie a tutti Grazie a tutti